buona giornata amici di fano tv oggi è mercoledì 8 marzo 2023 8 marzo una giornata particolare non è la festa ma è la ricorrenza delle donne è una giornata internazionale per le donne per rilevare i loro diritti soprattutto e per mettere in evidenza queste figure che si impegnano per sostenere la vita quotidiana di tutto il mondo possiamo dire una parte importante della nostra vita 8 marzo 2023 vediamo subito il l'almanacco del giorno vediamo il santo le previsioni del tempo e poi leggeremo le notizie ovviamente si parlerà anche dell'8 marzo vediamo che il santo del giorno è san giovanni di dio un santo portoghese che visse nel sedicesimo secolo da giovane si era arruolato nella fanteria era un militare al servizio del conte d'oropesa di castiglia combotté anche contro i turchi poi una volta che fu dimessa la divisa si fece pastore finché nella pace campestre era a servizio di una nobile donna finché nella pace campestre trovò dio allora si dedicò all'apostolato operò molte conversioni specialmente tra i giovani fondò ospedali opere di carità e compì anche molti miracoli fu canonizzato da papa alessandro ottavo nel 1690 questo è san giovanni di dio ed ora guardiamo la grafica per quanto riguarda le previsioni del tempo il tempo rimane un po instabile comunque non dovrebbe piovere nella giornata di oggi specialmente nelle marche nord il tempo stabile ma con nuvolosità in regolare qualche piovasco lungo l'appennino queste un po le previsioni le massime arriveranno a 17 gradi le minime si attesteranno poco superiori alle 10 insomma 11 gradi e i venti sono moderati tesi da sud ovest mentre nell'interno da ovest sud ovest queste le previsioni del tempo il mare si mantiene leggermente mosso comunque ormai il 21 marzo non è molto lontano quindi siamo prossimi alla primavera ebbene allora cominciamo con le notizie a partire dal corriere adriatico oggi vediamo l'apertura di fano eccola qua abbiamo un problema che si ripete per un condominio di bellocchi non è la prima volta che a questo condominio di bellocchi viene sospesa l'erogazione dell'acqua potabile staccata l'acqua quattro condomini erap di fida legale degli inquilini in regola che cosa accade accade che questi condomini questi condomini anzi diciamo hanno l'impianto di erogazione dell'acqua il contatore è centralizzato quindi chi non paga è stato messo nelle stesse condizioni di chi paga ovvero non può prendere più l'acqua dal rubinetto e questo ovviamente non va bene ci sono degli inquilini morosi e altri che pagano ebbene l'aset che cosa ha fatto dopo che ha inviato molti solleciti a 24 appartamenti appartamenti erap di bellocchi non avendo avuto tutti i soldi che gli spettano ha chiuso i rubinetti e questo ovviamente ha messo a parte molto disagio a coloro appunto che non hanno più l'acqua ma anche quelli che la pagano insomma non è un provvedimento che è equilibrato per gli uni e per gli altri coinvolto anche il sindaco per il ripristino non è la prima volta che accade dicevo l'altra volta la situazione è stata superata però il problema non è stato risolto le altre notizie vediamo che anche la curia sarà tra quelli che hanno presentato ricorso contro la variante di Gimarra contro l'ultimazione dell'interquartieri ci sono molti cittadini che hanno ricevuto avviso di espropri che hanno fatto parte del gruppo che presenterà oggi stesso il ricorso al TAR per fermare questa variante che costituisce secondo appunto loro un grave danno ambientale per le colline di Gimarra e tra questi figura anche la curia con due soggetti ovvero l'istituto di sostentamento per il clero che ha un lotto di terra nei pressi dove la nuova arteria dovrebbe confluire con la statale 16 giù in fondo e poi anche la parrocchia di Gimarra che ha una superficie di terra nei pressi della vecchia chiesa del Carmine. La parrocchia di Gimarra è l'istituto per il clero titolare di terreni sulla collina ebbene anche loro presenteranno ricorso al TAR, fanno parte del gruppo. Tutta la procedura seguita dall'amministrazione comunale secondo i ricorrenti è viziata da una serie di grossolani errori di tipo amministrativo un esempio tra tutti. Il Consiglio Comunale quando ha scelto il percorso tra quattro alternative che erano state presentate dalla Giunta ha scelto la variante di Gimarra perché rientrava seppur di poco entro il budget dei 20 milioni stanziati dalla Regione che ha avuto i soldi tramite il Cipe. Ebbene in una ulteriore delibera di Giunta si mette nero su bianco che questa scelta costerà all'amministrazione comunale sui 30-35 milioni di euro e questo ovviamente contrasta con quanto approvato il Consiglio Comunale. Sono queste dichiarazioni anche, sono queste rilevazioni che ha fatto Luciano Benini che è uno dei componenti più attivi del Comitato che contrasta appunto l'approvazione della variante. E poi altri elementi a sostegno del ricorso. Non esiste nessuna evidenza della proraga oltre il 31 dicembre 2022 che ha permesso al progetto di andare avanti nonostante che non abbia espletato tutto il suo percorso amministrativo entro tale data. E poi non c'è ancora l'ospedale di Muraglia che era la condizione per cui la Regione aveva dato al Comune di Fano questo contributo per realizzare un miglior collegamento tra la città appunto e il nosocomio. Non esiste l'ospedale, l'ospedale poi insomma l'arteria che viene progettata non ha nulla a che fare con il collegamento dell'ospedale perché termina molto molto prima di Fosso Signore e quindi non arriva a Muraglia. Vedremo come andrà a finire questa storia insomma c'è un contrasto. C'è anche un contrasto all'interno della maggioranza che insomma avvelena un po' le posizioni. E poi parliamo dell'8 marzo. Parliamo dell'8 marzo in base a questo articolo pubblicato a fondo pagina nella seconda pagina del Corriere. Dal significato dei cappelli al valore del velo. Il velo islamico è un po' al centro dell'attenzione, il velo islamico accettato ma anche imposto. Sono questi i due valori che vengono messi a confronto dall'iniziativa dell'8 marzo, un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale. Ieri intanto si è aperta al Paricento una mostra intitolata Ma cosa ti sei messa in testa? Organizzata dall'esperta di costume Cristina Ortolani. Un tema originale, questo è curioso, che ha messo nelle condizioni di quest'ultima di evidenziare un po' l'evoluzione della moda. Ma una moda non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista sociale perché certi copricapi poi hanno assunto il valore di una protesta, di un'azione di carattere sociale, lavorativo, insomma un'azione di carattere culturale. Anche i capelli possono essere il simbolo di un progresso evolutivo nella storia della nostra società. Ma vediamo alle iniziative di oggi. Oggi alle ore 18, sempre al Paricentro, è prevista l'inaugurazione della mostra fotografica svelarsi. Seguita, anzi anticipata, dalla performance Immaginazioni vive, protagonista il velo, il velo islamico appunto accettato e imposto. La mostra presenta opere di Alice L'Appetite Yen che questo progetto ha curato. Poi abbiamo la performance interpretata da due donne musulmane, Nadia Ben Assen e Dalel Wab dell'associazione Alfiriat. Il tutto è frutto di un dialogo appunto tra la fotografa e le donne musulmane per quanto riguarda il velo. E poi il programma si chiude domani, domani sera alle ore 21 al Cinema Masetti, quando sarà proiettato il docufilm Anna. Un film presentato da Luca Caprara che diagolerà con il regista che sarà presente in sala, Giuseppe Carrieri. Ebbene, questo è un film che fa riflettere. Sono anzi quattro storie di bambine a cui viene imposto il matrimonio. Sono bambine che provengono da diverse località. dall'India vediamo dalla Nigeria, dal Peru e poi vediamo India, Peru, Nigeria e Siria. Sono quattro bambine a cui viene imposto un matrimonio precoce da cui queste ultime tentano di scappare e altre invece ne rimangono vittime. È veramente un'opera che fa pensare, che fa riflettere. Giriamo le pagine, passiamo al problema ambientale. Arzilla. Gli interventi previsti scavalcano la cabina di regia. Nella giornata di ieri l'amministrazione comunale ha annunciato dei lavori di cura e manutenzione del torrente Arzilla per 100.000 euro in accordo con le ferrovie dello Stato. Lavori però che non sono stati affatto concordati con la cabina di regia del contratto di fiume. Un contratto la cui evoluzione è stata molto lenta e ha impegnato diverse riunioni con le associazioni ambientaliste. Nonostante tutto questo, poi questi provvedimenti non vengono affatto concordati. E di qui abbiamo la reazione di Lupus in fabola e di Argaonauta che temono misure non adeguate perché il loro consiglio loro lo ritengono essenziale. Il Giro d'Italia a Fossombrone passerà a lungo corso Garibaldi e sono partiti i lavori urgenti per sistemare il Selciato. Questa gara, l'aviamo visto anche nei giorni scorsi, comporterà la realizzazione di diversi interventi di cura e manutenzione delle strade, benedetti questi giri d'Italia che appunto poi impongono all'amministrazione comunale di procedere alla cura e alla manutenzione delle strade. Quindi anche Corso Garibaldi verrà messo a lucido per questo avvenimento. Invece a Mondolfo è stato presentato il bilancio di previsione per l'anno in corso, per il 2023. Vediamo qui il titolo, si parla subito di evasione perché sono stati recuperati ben 3 milioni dall'indagine che è stata fatta dall'amministrazione comunale, 3 milioni recuperati dall'evasione che possono essere impiegati in opere pubbliche, più costi anche da energia e inflazione. Ebbene, li abbiamo subiti tutti, questi sia all'interno delle famiglie che all'interno delle imprese e quindi anche le istituzioni hanno subito questi rincari, rincari delle bollette ovviamente. A Mondolfo passa il bilancio di previsione invariate, tari e rette delle mese. Tra gli aspetti sicuramente positivi, ha dichiarato il vice sindaco Carlo Di Ottallevi, la lotta all'evasione fiscale, visto che dal 2016 ad oggi abbiamo accertato più di 3 milioni di evasione ed abbiamo messo a gara la riscossione coattiva che è fondamentale per recuperare questi soldi. Non abbiamo incrementato né modificato la tari, nessun aumento sulle rette delle mense scolastiche e per quanto riguarda i fondi statali sul caro bollette sono a disposizione 40 mila euro. Barbieri poi ha annunciato che con i fondi del PNRR il comune potrà ricostruire ex novo l'asilo di Mondolfo Brontolo, anzi è l'asilo di Centocroci, la frazione appunto prossima al paese. E poi si concluderanno i lavori di adeguamento sismico della scuola Enrico Fermi di Mondolfo e poi proseguono anche i lavori contro il rischio idraulico, che è un po' il problema di tutto il territorio. Quindi un bilancio in salute per quanto riguarda Mondolfo. Giriamo la pagina e vediamo qualche notizia pesarese. Parliamo subito di San Domenico perché il mercato sta per essere spostato da un'altra parte per il recupero di tutto il chiostro della chiesa di San Domenico che è poi stata trasformata in ufficio delle poste e comunque rimane questa bellissima facciata che dà verso via Branca. Mercato delle erbe firme per restare a San Domenico una volta che saranno conclusi i lavori e gli ambulanti mettono le mani avanti. Dopo che il chiostro sarà tutto ristrutturato, qualificato, sistemato, vogliamo tornare perché quella è la sede storica del mercato, un mercato che è documentato fin dal 1861 mentre il convento, il chiostro risale al 1200. Vediamo un po' l'escursus di queste opere, lo vediamo qui da questa tabella, la roadmap dell'ex convento. Sono 7 milioni e 600 mila euro i fondi a disposizione per eseguire i lavori. Entro il 30 luglio i lavori devono essere affidati, entro il 30 settembre il 30% delle opere deve essere realizzato, ma qui si parla del 2024 e poi entro il 31 marzo del 2026, vedete quanto ci vuole per concludere tutti i lavori, i lavori devono essere conclusi e quindi un'opera importante per il cuore della città di Pesaro. Mentre a San Decenzio, era il mercato che mi era venuto prima in mente, San Decenzio c'è ancora fame di nuovi parcheggi. Si attende anche lo spostamento delle bancarelle dell'ortofrutta, un punto per la sosta delle auto ogni martedì di mercato ai campetti da basket del San Decenzio in aggiunta ai parcheggi disponibili. E questa la seconda proposta allo studio dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento annunciato per le bancarelle dell'ortofrutta a chilometro zero nella nuova area assegnata vicino al parcheggio di via Mirabelli, quindi ancora spazio per le auto. Ed ora torniamo a parlare dell'episodio di cronaca in cui è stato ucciso Pierpaolo Panzieri, vi ho dato qui i due protagonisti di questo delitto, la vittima e l'assassino. Ebbene Pierpaolo è stato, il corpo di Pierpaolo è stato oggetto di autopsia e i medici hanno rilevato sul suo corpo ben 15 coltellate di cui una, quella mortale, alla gola, ma ce ne sono anche altri due che sono state inferte con l'arma da taglio e sono ferite alla schiena che potrebbero aver causato anche queste la morte. Quindi tre ferite veramente molto molto gravi. 15 coltellate, aveva due costole rotte a causa della violenza, delle pugnalate. Oltre sette ore di autopsia, Panzieri ucciso da Alessandrini in bagno dopo la cena, ha cercato di difendersi e lo si vede anche dai tagli delle mani con i quali ha cercato di parare i colpi che gli venivano inferti dall'amico. E questo ovviamente aggrava ancora di più la situazione dell'imputato in quanto c'è proprio l'efferatezza del delitto, dell'azione delittuosa. Vediamo anche i lavori per quanto riguarda il teatro Rossini. Il teatro Rossini c'è il sì al progetto, interveloce pronto per l'autunno. Il teatro Rossini è stato danneggiato dal sisma e quindi deve essere pronto a tutti i costi per il 2024, quando Pesaro sarà la capitale nazionale della cultura e ovviamente se deve rinunciare al suo teatro rinuncia ad una delle ricchezze, delle risorse più importanti della città. Il Comune però rassicura sui lavori del costo di 620 mila euro oggi il sorteggio delle ditte interessate. Vediamo anche quello che è accaduto ieri nell'Assemblea dell'Ata che ha discusso l'eventualità di ricorrere al TAR contro la decisione della Regione di non approvare il piano appunto di raccolta dei rifiuti. È stata approvata la proposta di ricorso al TAR malata, cerca l'intesa con la Regione. Fino all'ultimo i sindaci hanno deciso di cercare un accordo con la Regione stessa, però insomma se alla fine questo accordo non si conclude, si passa direttamente di fronte ai giudici. Dunque vediamo un attimo l'incipit di questo articolo. Passa nell'Assemblea dei sindaci la proposta di ricorrere al TAR contro la bocciatura del piano d'ambito. La soluzione che viene rilanciata dall'assessore regionale all'ambiente Aguzzi è la proroga di un anno della vita delle discariche sia di Casprete di Tavuglia che quella di Monteschiantello di Fano. Al fine di non creare condizioni di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e poter quindi pianificare una soluzione al problema dell'esaurimento dei due impianti. Due impianti che hanno una vita breve, uno scade nel 2027 e l'altro nel 2026. Pensate siamo nel 2023 quindi se all'orizzonte non esiste o l'ampliamento delle discariche o una nuova discarica veramente saremo sommersi dai rifiuti ma questo non accadrà. Poi qui vediamo una figura che è stata una figura ben accetta da tutta la provincia e Daniele Tagliolini scomparso antitempo è stato presidente della provincia e presidente dell'Ata. Il nuovo liceo Mammiani intitolato Tagliolini al compianto presidente si dedicherà alla sede di Viale 11 febbraio a Pesaro. Vediamo anche la pagina di Urbino. Magalotti lascia l'ospedale incognuti per la breast unit ebbene il responsabile di quel reparto di eccellenza che si occupa del tumore al seno lascia Urbino per venire definitivamente a Fano e questo ovviamente è un danno per la città ducale che ha in questo medico, in questo professionista, un punto di riferimento di eccellenza. E c'è anche l'incognita della breast unit che è un contenitore, un impianto di grande utilità appunto per i tumori che verrebbe a mancare con la partenza del dottore Magalotti. Il giornale evidenzia anche la preoccupazione dell'assessore alla sanità del comune di Urbino Elisabetta Foschi preoccupata come logicamente tantissimi suoi concittadini e pazienti. Un enorme danno per Urbino e tutto il territorio è un po' il pensiero unanime per quanto riguarda questa partenza e vedremo come andrà a finire. Parlando di sanità vediamo subito invece l'apertura che ha il resto del Carlino. Endometriosi, il dolore incompreso, mi dissero che soffrire era normale. Qui si parla di una esperienza, di una esperienza veramente dura che ha coinvolto una signora, si tratta di Deborah Guidi, 47 anni, fanese, la quale racconta la sua esperienza. È affetta da questa malattia. Non abbiate paura di parlarne, ha dichiarato, riprendetevi la vita. Il prossimo weekend Deborah Guidi sarà promotrice a Fano, con un banchetto informativo sotto i portici di Palazzo Gabuccini, dell'iniziativa dell'Associazione Progetto Endometriosi per accogliere fondi e informazioni sulle donne che hanno questa malattia cronica, una malattia che colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. Il titolo dell'iniziativa è Fiori della consapevolezza, la forza del girasole, la delicatezza della gerbera. Ebbene, si tratta di una malattia che colpisce in età adolescenziale e crea e crea parecchi problemi alle persone che ne sono affetti, soprattutto il dolore. Il dolore dai dolori mestruali che sembrano che siano normali, in realtà in questo caso non lo sono affatto. Quindi una lotta di una donna, che però fa parte di un'associazione che si impegna per sensibilizzare la ricerca, per sensibilizzare le persone affinché questa malattia venga debellata. E poi anche il resto del Calino parla della variante di Gimarra e dell'inserimento della diocesi tra i ricorrenti Altar. Variante il ricorso degli espropriati, tra loro c'è anche la diocesi tra i firmatari, la parrocchia del Carmine a Gimarra e l'istituto per il sostentamento del clero. Facciamo anche un escursus per quanto riguarda il ritrovamento di reperti romani in via Vitruvio. Anche quelle lettere cubitali confermano il premio dell'edificio. Guardate la correttezza e la bellezza di queste lettere. Purtroppo sono frammentarie, ma sicuramente decorano un edificio pubblico di grande pregio. Ed ora tutti alla ricerca di cos'è quell'edificio. Un tempio, delle terme, oppure un edificio pubblico, insomma qualcosa lo è. Ebbene con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa. Ci sono tante altre notizie sui giornali questa mattina, ma avevo il piacere di leggerle e io vi do l'appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie.